ballando con le stelle costa magna sbotta dopo l'intervento della lucarelli un'edizione decisamente movimentata quella di ballando con le stelle 2024 gli scontri sembrano essere diventati i protagonisti del noto talent show la querelle tra selvaggia lucarelli e sonia bluganelli sta diventando il leitmotiv del programma ovviamente la lucarelli non viene contestata solo dai partecipanti di ballando con le stelle ma anche dagli ex concorrenti ieri sera 26 ottobre 2024 dopo l'intervento della lucarelli nella questione mina zilli l'ex protagonista di ballando con le stelle luisella costamagna ha detto la sua sulle parole della giurata ballando con le stelle costamagna sbotta dopo l'intervento della lucarelli mina zilli ieri sera 26 ottobre 2024 a ballando con le stelle ha manifestato la volontà di ritirarsi a causa degli infortuni alle costole e al piede i giurati hanno cercato di convincere la concorrente a non lasciare il talent ivan zazzaroni ha proposto a nina e pasquale la rocca di restare fermi per qualche puntata per il recupero dovete stare fermi tre settimane e vabbè luisella costamagna è rimasta fuori due o tre puntate lo scorso anno e quindi potete farlo anche voi selvaggia lucarelli è subito intervenuta e ha corretto il collega no 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 lei è rimasta fuori sei ma cosa due dai me lo ricordo bene io vai stai zitto zazzaroni e passiamo oltre che è meglio stai buono zazzaroni guarda anche pasquale la rocca come ride la precisazione della lucarelli ha scatenato la reazione su twitter dell'ex protagonista di ballando con le stelle luisella costamagna la costamagna sbotta su twitter dopo le parole di selvaggia lucarelli su twitter l'account cinguetterai ha commentato facendo una precisazione a distanza di anni la vittoria di luisella costamagna ancora fa rosicare luisella non rimase fuori per sei puntate ma si ritirò alla sesta puntata per l'infortunio e rimase fuori dalla gara solo per tre puntate con le lacrime degli haters bugiardi giratori di frittate e arrampicatori sugli specchi luisella pulisce la coppa di ballando con le stelle prima danno informazioni sbagliate correggi i loro errori e a quel punto cercano di sviare il discorso ma due balli li ha fatti da seduta come tutti i concorrenti infortunati prima di ritirarsi o vale per tutti o per nessuno dopo due anni stanno ancora così gesù aiutali guarda il post qui sotto luisella costamagna ha condiviso il tweet in questione ed ha aggiunto grazie per l'onestà è andata esattamente così per me ballando con le stelle è un capitolo chiuso marido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora dopo due anni insiste a raccontare balle ossessione che dire i dissapori tra selvaggia e luisella continuano anche fuori da ballando con le stelle quindi non 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 Grazie a tutti.